Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per Lucas Majorin, il 19enne di Caldonio, che era finito in carcere luglio scorso dopo aver accoltellato il padre 59enne al culmine di una violenta lite. Per la serie difendenti che avevano raggiunto al capo e al collo il genitore, fortunatamente non in punti vitali, il giovane era finito in carcere San Pio X con l'accusa di tentato omicidio. La lite si era svolta nell'abitazione di via Barco a Caldonio. Solo la rottura della lama del coltello da cucina e l'intervento della madre avevano posto fino alla reazione spropositata del ragazzo. L'evento aveva scosso anche la comunità dove la famiglia era conosciuta e bene inserita. La decisione del magistrato di porre Lucas agli arresti domiciliari nell'abitazione della sorella arriva dopo 75 giorni passati in cella e una lettera di scuse inviata al genitore.